DJ Time, Giussi Ferreri e Alvaro Soler sono i tre eventi clou del Live Festival 3 organizzato dal Città Sant'Angelo Outlet Village dal 13 luglio al 15 di agosto che prevede concerti live con grandi artisti nazionali ed internazionali ed eventi a tema oltre a spettacoli live nel Borgo e nella Food Court prevedendo per le serate degli eventi e l'apertura dei negozi sino alle ore 24 musica, spettacoli e shopping dunque seguendo la vocazione dell'outlet che si conferma sempre di più un centro di intrattenimento e soprattutto un aggregatore turistico si parte in occasione del weekend di sabato 13 e domenica 14 luglio con un'estate italiana che partirà alle ore 10 con il raduno d'auto d'epoca e dalle 18.30 con l'evento vero e proprio dedicato all'arte degli anni 60, 70 e 80 poi spazio alla musica dei DJ di Radio DJ alle ore 21 del 21 luglio con il Summer Tour 2019 il 27 di luglio sempre alle 21 appuntamento con Giusy Ferreri e poi il 6 di agosto sempre alle ore 21 il concerto di Alvaro Soler che chiude la rassegna dei grandi concerti infine il 15 di agosto a partire dalle 18.30 ci sarà la grande festa di Ferragosto con il Cocomero Party il turismo va valorizzato e noi le dimensioni, le nostre disponibilità e gli spazi che abbiamo a disposizione ci consentono di poter amplificare questo argomento a livello nazionale sicuramente Radio DJ con i 4 big della radio e quindi Albertino, Molella, Fargetta è prezioso ma ovviamente Giusy Ferreri il 27 di luglio chiuderemo la stagione estiva con un concerto big, con un big internazionale che farà 5 tappe in Italia tra cui la nostra il 6 di agosto sicuramente è un appuntamento importantissimo con un ospite internazionale grazie a tutti